I figli d'Artemedas presentano Famiglia d'arte, diciannovesima edizione Distopie Ti ho sorvegliato per sette anni, Winston Guarda la mia mano Quante vita sono queste? Il fine del potere è il potere Giovanna, Giovanna, dimmi se ci sono novità Voglio un milione di euro Quanto pensi di poter continuare così? Buonasera Potremmo chiamarla rabbia Dopodiché Arriva la fine Grazie a tutti